Stiamo per iniziare il secondo set, CEA è in vantaggio 1 a 0, adesso abbiamo il rinforzo di Sabrina, per cui inizia il secondo set, la battuta Claudia. E siamo già 1 a 0, 1 a 0 per la forna. Grazie! 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 Sì! Siamo! Tire! Grazie! 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 Grazie a tutti Grazie 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 BAN! 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 E'TO! BAN! 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 Grazie a tutti 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 Ugo uno